Tolgono il sonno, compromettono la vita intima e sociale, aprono le porte a discriminazioni e sono spesso accompagnate da ansia e depressione. Sono queste solo alcune delle pesanti ripercussioni sulla vita quotidiana di chi ha la dermatite atopica e l'alopecia areata, malattie più diffuse in Alta Lombardia. La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica della pelle che colpisce circa il 3-5-8% della popolazione italiana e anche della popolazione lombarda. Per esempio vediamo tanti pazienti qui in Lombardia, sia dalle province di Milano, di Bergamo, le Vali Bergamasche, Sondrio, la Vartellina, Lecco, che sono affetti da questa patologia in forma moderata severa e che ovviamente arrivano per cercare di curare la patologia anche con le nuove terapie che stanno emergendo. L'alopecia areata è una malattia altrettanto rappresentata, ha una prevalenza simile tra uomini e donne e la stimiamo in meno dell'1% della popolazione lombarda, quindi circa 100.000 pazienti affetti in tutta la Lombardia. Queste due malattie hanno in comune il fatto di avere come patogenesi una disregolazione del sistema immunitario che in risposta a stimoli ambientali si va ad attivare e provoca l'infiammazione a livello della pelle nella dermatite atopica e del follicolo pilifero nella lopecia areata. Entrambe queste malattie sono croniche, si possono presentare insieme ma non è assolutamente detto, anzi lo fanno in una piccola percentuale di pazienti e si possono presentare assieme ad altre malattie infiammatorie o immunomediate come malattie tiroidee nel caso dell'alopecia areata o come asma e rinite allergica nel caso della dermatite atopica. Entrambe inoltre hanno una ripercussione violenta sulla qualità di vita del paziente. La dermatite atopica principalmente per il prurito oltre che per le manifestazioni cutanee, quindi queste aree rosse che coinvolgono spesso il viso e ovviamente l'alopecia areata per la perdita di capelli che si accompagna a stigma sociale e quindi nella vita privata e lavorativa del paziente affetto. Per l'alopecia areata oggi abbiamo il primo farmaco approvato per la terapia dell'alopecia areata severa nel paziente adulto che è il baricitinib, una piccola molecola, un jack inibitore che si assume per bocca una volta al giorno. Per la dermatite atopica abbiamo un po' più di opzioni terapeutiche. Nella dermatite atopica moderata severa sia i farmaci biologici che si assumono a livello sottocutaneo, tramite iniezioni cadenzate nel tempo o ancora jack inibitori.